Torna a Montorio al Vomano la vetrina del parco, ormai da 22 anni laboratorio di confronto per la valorizzazione e tutela del grande patrimonio delle aree protette. La manifestazione, promossa dall'Associazione Culturale Il Chiostro, anche per questa edizione mette in mostra risorse, prodotti, saperi e sapori delle zone interne, continuando l'opera di narrazione del territorio tra arte, natura, gusto e cultura. Per noi questo evento è importantissimo perché può costituire, come possiamo dire, un rilancio di un territorio. Una tre giorni a Montorio al Vomano, caratterizzata dall'enogastronomia della tradizione, mostre, libri, ricerche, concerti, spettacoli, concluderanno la manifestazione in Modena City Ramblers. La sua prima vetrina del parco? È la mia prima vetrina del parco, sarà la prima uscita pubblica che farò nel mio paese e sono onorato di questo. Sono onorato soprattutto della forza che la mia cittadinanza mi ha dato esprimendola con il voto e cercherò in tutti i modi di allargare questa vetrina con l'amico Maurizio Di Giosia, presidente del Chiostro. E quindi faremo e lavoreremo insieme bene per allargare questa manifestazione. Partono i naturali della vetrina del parco di Montorio al Vomano, il parco Gran Sasso Laga e l'assessorato all'agricoltura della regione Abruzzo. Noi avevamo e abbiamo una strutturazione di carabinieri forestali a cavallo. Per la prima volta tornano a Montorio. Ci sarà una presenza importante che da un punto di vista di immagine non è di poco il momento. Vi invito a vedere i quattro stalloni e i nostri cavalieri, i uomini e donne che al comando del colonnello Ileconsole saranno presenti e daranno lustro alla manifestazione. A causa dei terremoti e soprattutto della tempesta perfetta, neve, mancanza di energia elettrica, l'agricoltura abruzzese ha avuto un danno di quasi 150 milioni di euro. Abbiamo cercato di stare vicino ai nostri agricoltori e soprattutto agli agricoltori di montagna che già in tempi ordinarie sviluppano un'agricoltura eroica. E da questo punto di vista siamo riusciti ad erogare quasi 6 milioni di euro ai nostri allevatori di montagna con contributi specifici, 400 euro a bovino, 60 a dovine, 20 a suine e fare in modo soprattutto che le aziende agricole colpite rimanessero in quei territori difficili. Ad oggi nessuna delocalizzazione si è sviluppata e stiamo investendo ulteriormente poiché abbiamo avuto 46 milioni di euro di piano di sviluppo rurale aggiuntivo post-sisma proprio da destinare ai 23 comuni del cratere e in particolar modo alle aziende che investono e insistono su quei territori. Grazie.